Disclaimer importante, precisazione importante come sempre prima di partire col video di oggi, soprattutto oggi, una precisazione che va fatta, altrimenti so già quelli che saranno i commenti che arriveranno, i toni dei commenti che vedremo sotto questo video. Quindi, come è nello stile di Passione Inter? Non è nostra, non è mia intenzione assolutamente fare maniavantismo, come si dice in questi casi. Non vogliamo diffondere la cultura del sospetto, la dietrologia, soprattutto pensieri negativi, soprattutto nei confronti della classe arbitrale che va rispettata e che si trova a svolgere un lavoro molto molto difficile e apprezzo molto il loro coraggio di diventare arbitri, sicuramente. È nostra intenzione, è mia intenzione in questo video però, discutere con voi di un tema che oggi ha sollevato delle polemiche all'interno del gruppo Telegramma di Passione Inter e che in effetti mi trovano d'accordo. La notizia di partenza è l'annuncio oggi della designazione arbitrale del direttore di gara Rosario Abisso per la partita tra Inter e Verona di domenica alle ore 15, trentatresima giornata di campionato, il nome Abisso, i tifosi dell'Inter probabilmente se lo ricordano, penso quasi sicuramente, quindi parliamone. Prima però di parlarne, permettetemi di ringraziare il nostro Fabio Cannas, uno dei nostri sostenitori che grazie al suo abbonamento ha contribuito alla realizzazione di questa clip, il contributo di Fabio e dei nostri abbonati per noi è fondamentale, quindi se anche voi volete sostenere il nostro progetto potete farlo su patreon.com slash passione inter oppure su YouTube, tasto abbonati, link in descrizione. Se non vedete il tasto abbonati mi raccomando questo è il momento giusto per abbonarsi perché stiamo lanciando tante novità e tanti vantaggi esclusivi solo per i nostri sostenitori. Per chi se lo fosse dimenticato perché si parla tanto di Abisso, perché i tifosi interisti si ricordano in particolar modo dell'arbitro Abisso e perché si è creata anche questa polemica sulla designazione di oggi. Il perché ve lo vado a condividere prendendovi l'articolo dal nostro sito www.passioneinter.com. Eccoci qua, la notizia è Inter Verona designato l'arbitro Abisso non succedeva da oltre due anni e questo già fa suonare il campanello d'allarme. L'arbitro Abisso che non dirigeva una partita dell'Inter praticamente da oltre due anni, qual è l'ultima partita diretta da Abisso con l'Inter protagonista? Ce lo ricordo il nostro Antonio Silacusano, era il 24 febbraio 2019, si giocava all'Artemio Franchi di Firenze la gara tra Fiorentina ed Inter che terminò con il risultato di 3 a 3, il 3 a 3 della Fiorentina, il pareggio finale che arrivò a causa del clamoroso rigore concesso ai Viola su fallo di mani inesistente di Danilo D'Ambrosio e per chi non se lo ricordasse fornisco anche prova visiva, prova fotografica di quello che è stato il fallo di mani fischiato a D'Ambrosio, eccolo qua come potete vedere, la mano che per Spalletti disse fallo di capezzo lo ribattezzò l'arbitro Spalletti, vedete che l'arbitro Abisso era in buonissima posizione D'Ambrosio stoppò il pallone di petto, l'arbitro diede calcio di rigore, la cosa grave fu che dopo il richiamo al VAR, ci fu l'intervento del VAR che disse all'arbitro guarda che forse hai visto male, dovresti ridare un'occhiata, l'arbitro torna allo schermo a riguardare l'azione e conferma il calcio di rigore nonostante appunto le immagini piuttosto eloquenti per l'Inter quello fu un pareggio pesante comunque, considerando che poi la qualificazione in Champions con Spalletti come ricordiamo è arrivata soltanto all'ultima giornata quindi anche quello fu un risultato determinante in questo senso e che ha rischiato di compromettere la stagione dell'Inter da un certo punto di vista, ecco da lì in poi dopo erano scaturite una marea di polemiche chiaramente in quell'ambito e di fatto quindi l'arbitro abisso non ha più diretto una partita dell'Inter. Giorni fa insieme al nostro Simone Frizza che è un po' il nostro esperto in tema arbitrale, avevamo parlato anche del fatto che anche Orsato per un lungo periodo non ha arbitrato l'Inter e quindi abbiamo parlato di questioni di opportunità, questo è il senso che vogliamo far passare. Per Abisso c'è da fare secondo me un discorso simile a questo punto nel senso, lo ripeto, lo ribadisco, non credo alla mala fede e voglio che nella discussione su Passione Inter non si dica che gli arbitri ce l'hanno con l'Inter e Abisso ce l'ha con l'Inter da questo mi dissocio, personalmente non lo credo così come non credo a chi dice che questa di Abisso in questo momento è stata una designazione scientifica per danneggiare l'Inter ad un passo dallo scudetto, su questo ripeto non sono d'accordo. Però se mi dite che non è una scelta opportuna in questo momento far tornare Abisso ad arbitrare l'Inter, su questo vi do assolutamente ragione. Il discorso è molto semplice, lo scudetto almeno secondo me è piuttosto in archivio, ormai non è in discussione, quindi sulla carta questa partita contro il Verone è una partita come dice il nostro Simone Frizza se non va ad orato di terza fascia, di sicuro non è una partita di cartello, quindi ci si aspetta che ad arbitrarla non sia l'arbitro top del campionato di Serie A della squadra arbitrale, che si disegna magari in match più delicati, in match in cui ci sono punti molto molto pesanti in palio, mentre in questo tipo di partite si può mandare anche quel tipo di arbitro, non proprio di primissima fascia. Però innanzitutto l'Inter arriva da due pareggi in campionato che comunque portano l'ambiente Inter ad essere leggermente differente rispetto a quello che arrivava da 11 vittorie consecutive. Nel senso io penso che un risultato non positivo dell'Inter domenica contro il Verona a San Siro sicuramente farebbe circolare del malumore e un minimo di tensione nell'ambiente, anche se dovesse arrivare non sarò sicuramente io a cavalcare questo malumore, ma mi aspetto che da parte del tifo e dell'ambiente un po' di tensione possa subentrare dopo tanti anni così distanti da un grande obiettivo come lo scudetto che si intravede. Quindi dopo due pareggi arriva questa partita di San Siro che comunque ha un certo peso da questo punto di vista. Io mi immagino che da parte del tifo interista che già arriva molto carico a questa partita per questi motivi, già c'è molta prevenzione, quindi ogni scelta dell'arbitro passerà sotto il microscopio e ci sarà già un po' di prevenzione appunto sull'arbitro. I giocatori non credo, molti che ci sono oggi non c'erano in quella partita lì, però chi lo sa, magari qualcuno che lo ha incrociato in quell'occasione potrebbe partire, anche qualche calciatore un po' prevenuto anche lì, però sono professionisti quindi penso di no, però chi lo sa, ecco questo è un po' il senso. L'arbitro dalla sua parte immagino che magari un pizzico di prevenzione potrebbe psicologicamente subirla, dopo due anni si torna all'arbitro dell'Inter in uno stadio importante come San Siro, comunque un po' di serenità potrebbe venire a mancare, un pizzico, ecco sempre senza mettere in dubbio la professionalità di un arbitro che comunque però si è dimostrato tutt'altro che infallibile e non è di sicuro uno dei migliori arbitri in circolazione. Per questo motivo credo ecco di poter dire che non credo sia giusto avere delle preclusioni nel senso che non mi sembra giusto creare queste preclusioni nel senso di un arbitro che poi non arbitra più l'Inter mai più nella sua carriera, ecco questo secondo me non ha senso, però farlo tornare in questo caso Abisso proprio ora, proprio in questo momento qua, è logico che a livello di tifoseria si presta a del malumore e in caso, facciamo tutti gli scongiuri, ma dovesse l'arbitro Abisso fare un errore grave che può capitare, può succedere e sfavorire in questo caso l'Inter, succede il finimondo, però non direi che non te lo sia andato a cercare, questo è un po' il senso. Un mese fa in piena striscia vincente sarebbe stata una scelta più logica, oppure che ne so scudetto acquisito magari l'ultima giornata contro l'Udinese lo puoi ripiazzare, lì è una partita che anche arriva all'errore, te lo dimentichi sicuramente. Però ecco in una partita così sinceramente avessi potuto ne avrei fatto a meno, considerando tra l'altro che in questa stagione di veleni, casi, polemiche e robe varie ce ne sono state già pure troppe. Comunque speriamo bene, speriamo di non dover parlare dell'arbitro dopo la partita, all'Inter mancano ormai otto punti per chiudere aritmeticamente il discorso scudetto, contro il Verona sarà una partita tosta, comunque la squadra di Juric non sta attraversando un buon momento dal punto di vista dei risultati, ma è comunque un'ottima squadra, avrà la testa sgombra, questa secondo me è la più grande incognita, il più grande rischio. L'Inter mentalmente magari un po' di tensione può avvertirla, quella di essere arrivati ad un passo dall'obiettivo, il Verona avrà la testa sgombra, non deve raggiungere alcun obiettivo, è lontana dalla zona retrocessione, è lontana dalla zona Europa, quindi non avrà nulla da perdere, questa può essere l'incognita. Conte sicuramente dopo il pari con lo Spezia avrà dato una bella strigliata ai suoi calciatori, quindi mi aspetto però questa volta il colpo di grazia al campionato da parte dei nostri ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di questa scelta, noi saremo live su YouTube dalle 13.45 e anche su Twitch ovviamente per la cronaca di Inter Verona per viverla insieme con i nostri abbonati che potranno partecipare alla chiamata e a tal proposito ringrazio il nostro Fabio Cannas per il sostegno al canale, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube di Passione Inter e a seguirci e se volete anche a sostenerci tramite patreon.com slash passione inter oppure su YouTube tasto abbonati e link in descrizione per chi non vedesse il tasto abbonati.